Plastica, vetro, rifiuti ingombranti di vario genere e tipo, copertoni di gomme e molto altro ancora. Tutto questo compone una vera e propria discarica abusiva ai piedi del monte sopra il quale sorge una parte di San Pelino Vecchio. Una situazione incresciosa, grave, che deturpa l'ambiente circostante, che dovrebbe essere risolta immediatamente, mediante la bonifica dell'area e quindi una restituzione della dignità del posto, a chi in quella zona viva o semplicemente vi si trova a passeggiare o a compiere attività all'aria aperta. Oggi ci troviamo sul territorio di Avezzano, siamo precisamente tra Avezzano e San Pelino di Avezzano. Sono dei prati che costeggiano via romana. Possiamo notare che qui purtroppo l'abbandono di rifiuti di diverso tipo è continuo nel tempo. Questa zona è stata già attenzionata diversi mesi fa dalla Guardia Ecozofia nazionale e oggi, ad oggi, possiamo constatare che la situazione non è migliorata, anzi, ahimè, è peggiorata di gran lunga. Dal sopralluogo odierno possiamo notare diversi tipi, diversi tipologie di rifiuti che vanno dai calcinacci a plastica, notiamo anche frigoriferi, ci sono bombole di gas, ci sono sanitari, guaina, c'è un po' di tutto. La maleducazione purtroppo non si ferma a questo, ma possiamo notare che addirittura sono stati riversati al di sotto della vallata, elettrodomestici, troviamo plastica, bottie di plastica, ci sono copertoni, copertoni di auto, copertoni di trattori. Siamo purtroppo davanti a un vero e proprio disastro ambientale. Questa è una zona bellissima che si potrebbe tranquillamente vivere circondati dalla natura e invece purtroppo ci ritroviamo ad essere circondati da rifiuti, rifiuti di ogni tipo. Una zona dove potrebbero tranquillamente venire a correre, passeggiare, fare passeggiate in bicicletta con i nostri bambini, con le nostre famiglie e invece purtroppo la situazione è questa, nella speranza che venga al più presto bonificata.